Questa è la storia di tutti, la storia di ognuno di noi, questo è il nostro mondo, la nostra casa. Oggi siamo qui per dar voce al nostro cuore, una forza invisibile, indefinibile, un grido di paura e coraggio, fede e speranza. Speranza che un giorno questo giardino terrestre possa finalmente profumare d'amore. Una realtà diversa che l'inumanità, un mondo migliore nelle relazioni, nel rapportarsi, nel capirsi, nell'ascoltarsi, nell'esserci. Un mondo pronto a salvare vite con un gesto, una parola, un pensiero. Proprio come Saverio De Lucina, vittima di una delle tante trascurate realtà e ormai abbandonato al suo destino. Grazie alla musica, sua compagna di vita, ha intravisto la luce e preso la sua decisione. Una strada di fede, la strada del bene. La sua strada del bene. Riferimento ed alternativa per gli altri. Una fede presente in ogni nostra scelta, ogni nostro sacrificio. Don Saverio, esempio di perfezione umana nella sua imperfezione. E allora, di che parliamo? Esprimetevi, il mio non è un invito a caricarci responsabilità che nemmeno ci competono, ma il desiderio di sentirci pronti nel vedere tutto con occhi diversi. Contribuendo nel nostro piccolo, con quel che siamo e che dentro abbiamo. A cambiare anche una mezza virgola del nostro intorno, senza mai dimenticarci di noi stessi. Credeteci, credete di poter donare una possibilità, un'emozione, parte di voi stessi. Anche se tutto questo non sempre viene compreso, recepito, apprezzato e cambiato. Non importa, ci avrete provato. Ed è per questo motivo che, ripercorrendoci fino ad oggi, noi vi ringraziamo già solo per averci fatto credere, con la vostra presenza qui stasera, di poterci riuscire. se la missione è andata in porto, allora seguiteci. Continuate e non smettete, perché il vostro sogno è anche il nostro.